Ora pare che l'università stia per uscire da una delle sue innumerevoli angustie, e di conseguenza avremo di nuovo la sempre più distratta sevizia degli esami, e infine il gran giorno della patacca. Vale a dire, discussione della tesi di laurea, esca un momento, 5 o 7 punti in più, la proclamo, il proclamato ha il vestito buono, ed ha la mancia al bidello, il primo che lo chiama dottore. Non ho mai capito perché nella discussione sommessa e sonnolenta sulla riforma dell'università non si è mai stato posto con adeguata aggressività, bastava alzare un momento il dito indice, il problema dell'abolizione della tesi di laurea. Dalla mia modesta esperienza accademica non posso non trarre la certezza che la tesi di laurea in realtà è un puro e semplice fatto allucinatorio, un cerimoniale in senso psichiatrico, come quello di non so quale personaggio che prima di dormire doveva disporre per sette volte un limone con una punta verso ciascuna finestra della stanza. Si può sostenere che tutta l'università è allucinatoria, cosa difficile da negare, ma la tesi di laurea fu il primo annunzio del delitio marasmatico che stava colpendo la madre degli studi, come la prima volta in cui il nonno cercò di dormire in cima all'armadio. La tesi di laurea è un finto libro su un argomento piuttosto irreale, penso alle tesi umanistiche, che spesso non viene scritto e di rado viene letto. I modi per non scrivere una tesi sono semplici, il più diretto è farla scrivere da un altro. In genere sono le tesi migliori, ma perlopiù il candidato non la legge con attenzione e fa confusione, non si ricorda che cosa vuol dire una parola dotta, e protervi e senso di colpa lo dirottano nel nulla. Altri mettono insieme citazioni da libri sull'argomento, indipendentemente da qualsivoglia esigenza di coerenza intellettuale. Ricordo di aver seguito una tesi su Shaw, nella quale testi marxisti, ateocristiane, liberali, conservatori, deuteroleninisti, si giustapponevano in un perfetto ecumenismo critico. Qualcuno fa la tesi con coscienza, bisogna comprenderlo. Il coscienzioso che abbia, poniamo, una tesi sul gatto, ricercherà e schederà tutta la bibliografia sul gatto. Si rechercherà a sue spese all'Ovani o dove ha scoperto esiste un testo assolutamente fondamentale sul gatto, farà fotocopiare dispersi articoli usciti in riviste della provincia canadese, organizzerà il suo lavoro. Il gatto nella storia, il gatto nelle religioni, il gatto come simbolo onirico, sociologia del gatto, il gatto, due punti, l'integrazione è negata. Che i gatti stiano per la strada, non lo interessa, non lo sa, e comunque è una nozione dispersiva. Non gli verrà in mente di fare miau miau, o di ricavare notizie dalle fusa di un soriano. Probabilmente si persuaderà che il gatto che gli accade di vedere è un'allucinazione, indizio certo che ha lavorato con coscienza e completezza. E, esaurito, quando avrà finito andrà in montagna e a ritorno gatti non ne vedrà mai più.